Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video, oggi nuovo progettino fai da te andiamo a realizzare degli anellini con il fil di ferro, molto semplici da realizzare molto veloci ma all'effetto da indossati è davvero molto carino e molto elegante si adattano bene a molti stili e quindi sono adatti a tutte le occasioni prima però voglio ringraziare Diamoda Jewelry che ha sponsorizzato questo video e mi ha dato l'opportunità di lasciarvi anche un codice sconto nel caso non abbiate nessuna intenzione di realizzare il progetto DIY ma vogliate invece acquistare un gioiello dal loro sito il loro sito è super fornitissimo, ha tantissimi gioielli che va dalle collane agli orecchini, braccialetti e anche anelli che è quello che ho scelto io i gioielli sono molto belli, ho avuto davvero difficoltà a scegliere sono in argento placato oro, la gamma è davvero molto molto vasta e gli stili sono diversi quindi insomma è adatto a tutti quanti, i prezzi super economici scegliere il proprio gioiello all'interno del sito è semplicissimo basta andare sulla sezione che avete scelto, appunto braccialetti, collane o anelli cliccare su quello che vi piace di più, aggiungere il codice sconto, la vostra misura per questo c'è una sezione del sito in cui potrete trovare la giusta taglia per quanto riguarda i gioielli e poi si continua scegliendo il colore ed infine ricordatevi di aggiungere anche il codice sconto trovate tutti i link qui nel video e anche giù nell'info box prima di iniziare però vorrei anche aprire il pacchettino insieme a voi io l'ho già aperto e infatti il fiocchettino mi è venuto malissimo quello che è arrivato a casa era davvero un pacchetto molto molto bello e molto elegante questi gioielli sono adatti ad ogni occasione anche per fare un regalo, se volete spendere poco sono ottimi adesso andiamo ad aprire la scatolina all'interno troviamo una bustina con il pizzettino di stoffa che vi servirà poi in futuro per pulire il vostro gioiello il bigliettino da personalizzare con le vostre frasi, i vostri auguri nel caso sia un gioiello da regalare e poi il libriccino con tutte le istruzioni per poter pulire e restituire il vostro gioiello infatti potete restituire tutti i gioielli entro 30 giorni in caso di scambio o restituzione e in più hanno una garanzia di ben 180 giorni quindi 6 mesi dalla data di arrivo insomma quindi davvero un ottimo prodotto infine dentro la scatolina troviamo anche la scatola vera e propria che contiene il gioiello e quello che ho scelto io è appunto un anello ed è questo bellissimo solitario accompagnato da una fedina entrambi gli anelli sono in oro rosa questo è il colore che ho scelto io ed entrambi gli anelli sono ricoperti di piccoli brillantini bianchi e questo è il risultato sulla mano come vedete è davvero molto molto elegante io sono super felice della mia scelta li sto già usando da un paio di settimane e il colore è rimasto intatto i brillantini sono ancora tutti attaccati ho fatto la doccia ho fatto le pulizie quindi insomma reggono bene niente vi lascio come vi dicevo prima i link sia qui nel video che sotto nell'info box se volete dare un'occhiata al sito e se volete acquistare avete anche il codice sconto direi che è quasi ora di cominciare con il nostro progettino fai da te ricordatevi di lasciare un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale e niente partiamo per realizzare questi anellini qui ho bisogno di un filo di alluminio del diametro di 1,2 mm io ho scelto quello argento ma ovviamente ci sono tutti i colori che volete in più mi servono delle pinze una pinza a punta conica e una pinza piatta che servirà per tagliare ed in più mi serviranno un pennello un pennarello quello che volete che abbia più o meno la misura del vostro dito dunque inizio andando a tagliare un pezzetto di filo di circa 15 cm e lo vado ad arrotolare attorno al mio pennello che appunto sarà la base in cui realizzerò l'anello e quindi appunto vado a girare il mio fil di ferro faccio due giri attorno al pennello una volta che ho finito lo sfilo e se volete potete andare a limare le due estremità con della carta vetrata o con una lima per unghie per andarla a rendere più liscia in modo che non vi graffi e continuo a limare finché insomma sento che è bello liscio a questo punto prendo la pinza a punta conica e vado a prendere l'estremità del mio filo di ferro e lo giro su se stesso attorno alla pinza e poi continuo girandolo su se stesso fino a realizzare una chiocciola una spirale questo passaggio lo faccio su entrambi i lati quindi sulle due estremità e questo anellino è già finito lo vado a provare ed è perfetto poi vi faccio vedere il risultato finale alla fine del video andiamo con il secondo anellino questa volta mi servirà un filo di ferro un po' più lungo quindi lo prendo intorno ai 20-22 cm mi serviranno per questo anellino anche due perline colorate io ho scelto quelle in argento lo stesso colore del filo anche qui vado ad arrotolare il filo attorno al pennarello e questa volta faccio tre giri poi aiutandomi con la pinza vado a piegare il filo sullo stesso punto le due estremità sullo stesso punto in modo da creare linea perpendicolare all'anello dopodiché infilo una perlina su una delle due estremità vado a tagliare l'eccesso con la pinza se volete essere più sicuri potete mettere una goccina di colla dentro la perlina oppure una volta tagliato il filo in eccesso andate a piegare come sto facendo io andate a piegare leggermente in modo da rendere la parte finale piatta come sto facendo io nel video anche qui stesso procedimento dall'altro lato quindi inserisco la perlina taglio il filo in eccesso se volete anche qui ricordatevi una goccina di colla vado ad appiattire l'estremità vado a provare e vado ad allargare leggermente i giri dell'anello e niente con questo è tutto questo è il risultato da indossato dei nostri gioiellini che abbiamo appena finito di realizzare come vedete sono molto molto eleganti e adattabili in qualsiasi sia il vostro stile e niente con questo è tutto vi ricordo di lasciare un mi piace al video iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale lasciate sotto nei commenti cosa ne pensate di questi anellini qui se ne volete degli altri e cosa ne pensate del sito di Amuda se avete l'occasione se avete già avuto occasione di conoscere questo brand o comunque se è la prima volta che lo vedete e niente con questo è tutto io vi saluto e ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video ciao ciao